Da martedì in Sudafrica sfiderà i migliori giocatori di golf al mondo, in totale saranno 280 e Alain Vergari, originario di Monza ma piacentino di adozione, responsabile della scuola Piacenza Golf a Borgo Trebbia, sarà tra i 5 italiani in gara per entrare nel circuito internazionale più prestigioso dove potrebbe affrontare personaggi del calibro di Tiger Woods. Partiamo per questo grande torneo in Sudafrica, circuito del Sunshine Tour 2013, affrontiamo questa qualificazione per la stagione dove i primi 30 di questo torneo avranno modo di giocare con l'elite del golf mondiale per tutto l'anno. Partecipiamo in diversi professionisti da tutto il mondo, siamo circa 285 provenienti da tutti i paesi del mondo, italiani siamo in 5, ci sono due compagni di nazionale e altri tre ragazzi della Lombardia. Qual è il suo obiettivo? Sicuramente riuscire a entrare in questi 30 sarebbe un grande traguardo, sicuramente l'impegno è molto importante perché comunque si lotta con il meglio dei professionisti che ci sono sul circuito, quindi non sarà una cosa semplice. Diciamo che l'obiettivo più grande è riuscire a entrare nei primi 30, anche se rimanere comunque nei 60, quindi uscire anche dalla carta piena, fare dal 30esimo al 60esimo posto vorrebbe dire riuscire a partecipare a 10-12 tornei molto importanti. Come si sta preparando? Come sempre, tante palline di pratica, sto facendo un ottimo lavoro con il mio preparatore atletico in palestra, stasera abbiamo l'ultima sessione, domani si parte e vediamo. Il lavoro è stato fatto con massimo impegno. Qual è il clima ideale per giocare a golf? Sicuramente non questo, il nostro purtroppo in questo periodo qui crea parecchio disagio, vado in un ambiente totalmente diverso perché domani sera ci saranno 38 gradi al mio arrivo a Johannesburg e quindi non sarà semplice, un paio di giorni di preparazione e poi martedì iniziamo.